Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali Presono Studio One ed Acustica Audio sugli altri software e sulle tecniche di audio mix e mastering sono disponibili sul sito www.proaudiolearning.com. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifiche dei nuovi video caricati. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dedicato all'ottimizzazione del mix. In questo caso ho preparato una lista di tutti i plugin che ho utilizzato nel 2022 e come li ho suddivisi per identificare quelli meno pesanti e meno invasivi all'interno di un workflow complesso. Come vediamo ho creato un canale dove ho caricato tutti i plugin super low quindi che richiedono meno potenza al processore che uso tantissimo tantissimo durante le fasi di mix. In questo caso partiamo dal Fat Channel di Studio One. Sono tutti i plugin che ovviamente funzionano e lavorano a bassissima latenza quindi possono essere utilizzati anche in fase di tracking e di monitoring quindi quando registriamo possiamo utilizzarli senza aggiungere latenza ritardo al segnale in ascolto. Sono il Fat Channel di Studio One che abbiamo già visto e che ospita appunto tantissime emulazioni di differenti compressori e differenti equalizzatori. Passiamo poi sempre nella catena dei plugin di Studio One dove troviamo il compressore di Studio One molto avanzato con un bellissimo sistema di sidechain. In questo caso Studio One permette i sidechain in send e in output del canale. Una feature veramente espansa rispetto al passato. Il Chorus di Studio One che utilizzo spesso in alternativa a quello di Eventide molto molto leggero molto utile nella sua funzione doubler. Il Gate di Studio One che uso moltissimo sulle tracce instrument quindi sulle tastiere. Il Groove Delay che è un delay abbastanza semplice da utilizzare ma anche molto complesso che ci permette di modificare quattro linee di ritardo e quindi creare dei pattern delay molto particolari comodo sulle sezioni ritmiche. Il Multiband Compressor che utilizzo spesso nei bass e che mi permette appunto di avere un compressore multiband rapido rapido e velocissimo come vediamo i parametri sono molto semplici da utilizzare. Il Pro Q di Studio One che abbiamo già visto. Il PSP Master Comp. Questo plugin è un derivato della tecnologia di Vintage Warmer ma si occupa di creare gluing nei master bus. Lo fa in maniera eccellente funziona veramente molto bene da quel senso di analogico è molto molto dinamico e pesa ovviamente pochissimo sul processore. Andiamo poi su alcuni plugin gratuiti. Il Tal Chorus molto bello soprattutto sulle tastiere. Il Tal Vocoder che avete visto in un tutorial dedicato ad Aft Punk. Il TRD Nova un altro plugin gratuito dedicato questa volta all'equalizzazione. Funziona più o meno come il Pro Q3 di FabFilter ma è appunto gratuito. È sempre dinamico quindi anche in questo caso possiamo settare le soglie di intervento e di ratio e permette appunto anche un'equalizzazione più particolare e permette anche un'equalizzazione più analog style. Andiamo poi sul Royal Compressor. Questa volta è un altro plugin molto molto interessante di compressione e sempre della stessa casa quindi sempre di United Plugin troviamo l'Unichannel. Questo è molto interessante e richiama moltissimo le emulazioni hardware classiche che abbiamo visto in altri plugin ed è estremamente leggero. Funziona molto molto bene quindi per chi lo possiede l'ha comprato in offerta come me devo dire che è un salvavita in alcuni casi e pesa ovviamente molto molto poco. Passiamo poi all'Emp Compressor di Melda. È anche questo uno della serie dei plugin free. Li utilizzo tutti e li ho aggiornati per pochissimi euro alla versione free pro diciamo. Credo per 30 dollari ho fatto l'aggiornamento a tutti i plugin free in versione più espansa ed è una cosa che vi consiglio perché offrono tantissimi sistemi di utilizzo e funzioni avanzate rispetto anche ad alcuni plugin professionali ma anche questi molto leggeri non hanno un colore particolare ma sono appunto dei tools rapidi li vedremo spesso nei miei mix per utilizzare pochissimo processore. Andiamo poi nella sezione low quindi altri plugin che utilizzo sempre nelle fasi di mix che non pesano eccessivamente sul processore quindi sono adatti a macchine anche un po' più vecchiotte e che fatalità appunto contengono tutti i plugin di FabFilter quindi dal Pro DS al Pro G che è il Gate appunto il Pro Q3 onnipresente nel mio workflow il Simplom un plugin di filtro molto molto utile lo uso tantissimo per poi passare al Metric Hello Channel Strip 3 che ho utilizzato per decenni e che continuo ad utilizzare quando ho bisogno di un channel strip diverso da quello di Studio One. È estremamente simile a quello di SSL ma ha delle funzioni più avanzate e a mio giudizio è sicuramente quello più veritiero in ricordo delle console classiche SSL soprattutto la 4000. Il Chorus di Studio One che abbiamo già visto il Bass Pressor anche questo un derivato di Vintage Warmer che vedremo subito dopo. Poi il Fat Pressor di PSP questo è l'emulazione dell'1176 ma molto più leggera di quella di Nickel quindi quando ho bisogno di lavorare soprattutto sui cori dove ho bisogno di tanti 1176 questo sicuramente è quello che utilizzo più spesso. Passiamo poi a Infini Strip questo ne abbiamo visto un video dedicato sul mio canale è il miglior sistema modulare di Channel Strip con emulazione analogica tutto completamente algoritmico molto veloce molto semplice da utilizzare anche in questo caso trovate i miei preset in base appunto alle casse voci ho fatto un po' di lavoro e sempre l'indicazione in RMS su cui entrare poi all'interno della catena che ho creato come vediamo molto complesso rispetto ad altri Channel Strip e sicuramente dà modo di lavorare in maniera più fine su tante situazioni all'interno proprio della singola Channel Strip. Ovviamente tutti i moduli non hanno latenza tra loro e quindi comunicare latenza in entrata e in uscita tra i vari plugin come accade appunto in una Channel Strip invece della Do. Arriviamo poi ad All Timer questo è un multibed compressor in stile valvolare che vi consiglio di provare perché è molto dinamico veramente bello e il Twin L che è un limiter appunto in stile vintage anche questo molto interessante a me piacciono i limiter con i colori ecco perché poi Fire Unlimit è l'incarnazione perfetta del mio modo di vedere il limiter per arrivare poi ai plugin di SSL quindi il Bass Compressor 2 che emula appunto quello della console più moderna come anche il Native Channel Strip 2 sempre di SSL non sono soltanto belli esteticamente ma funzionano estremamente bene sul mix. Arriviamo poi all'M Equalizer come vi dicevo gli plugin gratuiti con degli equalizzatori di Melda e che contengono appunto poi all'interno tantissime feature e Ozone 9 in questo caso anche Ozone 10 e Ozone che appunto aiuta tantissimo gli inesperti nel mastering grazie proprio al Master Assistant. Arriviamo ora alle fasi di tracking in questo caso ho utilizzato spesso l'AVA con microfoni molto scadenti in ingresso per avere un sound più professionale in uscita quindi chiaramente poi l'autotune onnipresente il Trap Tune questa volta è un plugin creato da Sound Device molto molto carino che ricorda un po' l'utilità di altri plugin dedicati alle voci in questo caso ha tre sistemi integrati quindi quello di tuning, quello di splitting delle voci e anche un sistema di distorsione, riverbero e delay tutto integrato quindi facile da utilizzare sulla voce in maniera molto rapida e ovviamente funziona a bassissima latenza quindi facilissimo da utilizzare durante il recording ovviamente in monitoring anche in questo caso ho scelto Infini Strip perché appunto non lavora a bassissima latenza quindi questo ci permette appunto di stare sotto ai 3 millisecondi di latenza e quindi utilizzarlo per il monitoring e l'autopitch di Melda anche questo derivato dai plugin gratuiti aggiornati di Melda che funziona appunto come l'autotune arrivando poi alle fasi di mix e mastering vedremo dei plugin molto più pesanti quindi quelli che richiedono un processore più ampio più generoso a termini di risorse e che appunto mi permettono di arrivare ad un livello più alto proprio di sound all'interno dei mix partiamo con Cola che è un plugin che avete già visto su questo canale è l'emulazione del CADAC quindi della console CADAC e RAI che è onnipresente sui canali delle mie voci quindi questo è il plugin che sta sempre sul canale della voce e che riesce a darmi la sensazione di un calore valvolare molto molto convincente e dà una presenza, una distorsione armonica che dà tanta presenza alla voce infine Gain Station che utilizzo anche come overdrive proprio sulle voci e l'onnipresente Gold 4 che è il mio way to go quindi quello che utilizzo sempre nelle fasi di mix soprattutto degli strumenti acustici è forse il plugin più bello in assoluto di equalizzazione e di compressione sugli strumenti acustici soprattutto la parte degli EQ è incredibile parlando sempre di equalizzazione arriviamo poi a Green che avete già visto sul mio canale che uso tantissimo sulle voci anche questo è un plugin fisso sui canali delle mie voci e l'ultimissimo Jet questo appunto è un EQ dinamico una sorta di EQ mischiato a un sistema di glue compressor trovate il video approfondito di questo plugin sul corso di acustica audio rimanendo sempre su acustica abbiamo poi il Lift Master 3 di Luca Pretolesi e il nickel che vi dicevo prima il mio 1176 preferito ovviamente è un po' più pesante di quello di PSP ed è quello che utilizzo con il Mac M1 in fase di mix segue poi Purple anche questo onnipresente sui canali delle voci è l'emulazione perfetta del P1 della Pultec sempre passando per gli equalizzatori troviamo Rust il motor EQ che è appunto l'emulazione dell'Heritage Motown infine andiamo sulla channel strip di SSL Send 3 che mi permette appunto di utilizzare o l'equalizzatore o la sezione di comp quando non ho a disposizione appunto quello di SSL nativo e TAN2 che è gratuito ma è uno dei migliori bass bass gluing mai creati in questo caso da acustica audio vi consiglio di scaricarlo ed utilizzarlo troverete qui poi all'interno sempre i miei preset relativi all'utilizzo sulle voci sulla batteria sul basso eccetera eccetera anche sul master infine Ultramarine che è appunto l'emulazione delle Firechild e che trova sempre spazio all'interno dei miei mix nelle sezioni di mastering invece troviamo ovviamente Ash di cui abbiamo già parlato Unisum un altro glue compressor molto più difficile da utilizzare con tantissimi parametri di intervento a cui ho dedicato un video molto completo per chi volesse guardarlo il Gulfos Master anche questo è un sistema anche questo è un sistema a cui dedicherò un video specifico per arrivare poi ai miei sempre verdi Vice quindi questi sono i plug-in migliori che ho trovato e che continuo ad utilizzare in assoluto sui miei mastering quindi tutta la suite di Vice il DSR che è incredibile anche multibanda che utilizzo spesso anche sugli effetti quindi anche sui riverberi e il DS1 il miglior limiter da mastering mai creato proprio per la complessità di utilizzo e la gestione che ha appunto Vice in questo senso nonostante gli aggiornamenti di tutte le altre piattaforme rimane il mio top limiter sulle fasi di mastering passiamo poi a PSP dove appunto l'E27 trova spazio in tantissimi DMA mastering ma anche nelle fasi di mix anche questo è un plug-in di EQ che io straconsiglio da anni è incredibilmente musicale bellissima anche la sezione di drive e funziona in modalità sia left right sia MS quindi super consigliato per chi non vuole uccidere il processore con un bellissimo equalizzatore arriviamo infine ai must have di Eventide in questo caso di Newfangled Audio che abbiamo già visto in video dedicati al mastering qui abbiamo Equivocate e il bellissimo Elevate uno dei migliori transient designer che esistano e che uso tantissimo per migliorare quei mix che arrivano già troppo compressi in fase di mastering lo Split EQ sempre di Eventide anche questo vedremo un video dedicato a questo plug-in e l'Ultramarine A27 una emulazione del Pultec estremamente gradevole le armoniche che aggiunge questo plug-in sono molto molto belle è fisso su quasi tutti i miei bass è veramente un magic touch su tantissimo materiale per poi arrivare allo snow comp compressore dedicato a Rupert Neve nel caso specifico il bass comp di Rupert Neve veramente molto bello l'ivory limiter anche questo è molto particolare non è uguale identico a quello della Maselec ma fa un lavoro molto accurato proprio sulle sezioni di low frequency high frequency il dynamic cue sempre di ivory questo proprio in stile Maselec il fire high pass filter questo lo uso tantissimo sul master proprio per dare quel piccolissimo high pass in alcune parti del master ovviamente fire the clip di cui abbiamo già parlato ampiamente e il migliore equalizzatore da mastering realizzato al momento questo è veramente molto delicato molto musicale e aiuta tantissimo il final touch proprio del master stiamo parlando di airing sempre di acustica audio infine choral un altro EQ completo di doppio stadio di compressione a questo ho dedicato un video all'interno proprio del corso sui plug-in di acustica audio arriviamo alla sezione degli effetti che utilizzo nel mix il primo è il Lecos T7E MK2 di Audiority come anche il Polaris e il mio sempre verde Eventido sia la macchina originale sia il plug-in quindi li utilizzo entrambe contemporaneamente nel mio studio vi assicuro che il plug-in dell'harmonizer è identico a quello della macchina quindi super consigliato l'unica differenza è che mancano i preset dedicati custom dell'hardware ma comunque ci sono tutti quelli della casa Eventide presenti all'interno sempre di Eventide Mangled Verb bellissimo profondo uno di quei di quei riverberi estremamente ampi utili nei mix soprattutto di carattere pop trance Timeless 3 i Fab Filter in questo caso un delay estremamente versatile e dinamico veramente bello anche questo e il riverbero interno di Studio One Open Air che carica gli impulse response quindi è gratis con la Do e ovviamente ci permette di avere un'espansione enorme sui riverberi a risposta di impulso per arrivare poi al PSP 2445 che è l'emulazione dell'EMT un altro riverbero storico molto utilizzato come chamber room all'interno di tantissimi brani pop lo utilizzo molto sulle voci e il PSP eco questo è appunto l'emulazione anche questo di un eco a nastro molto facile da utilizzare rispetto appunto l'Echos che abbiamo visto prima il Nexcellence che è un riverbero un mechanical reverb quindi anche questo molto molto interessante per creare ambienti soprattutto su alcune sezioni della batteria come rullante e lo spring verb che appunto è riverbero a molle per eccellenza anche questo molto utilizzato nelle fasi di mix dei brani pop arriviamo poi allo space controller sound particles che abbiamo visto in un video in particolare e lo space control di studio DMI insieme ad Acustica Audio di Luca Pretolesi anche questo molto interessante mi ha permesso di correggere tantissimo l'espansione stereo su alcuni mix che avevano dei problemi di fase ma è utilizzato tantissimo proprio nella musica elettronica per poter espandere alcune frequenze rispetto ad altre infatti possiamo con questo allargare il panorama stereo delle altre frequenze senza influenzare quello delle medie o delle basse o viceversa Sparkverb anche questo molto bello fatto da Ubi che mi permette di avere tantissimi tipi di riverberi in questo caso li possiamo scegliere possiamo scegliere l'algoritmo cliccando sopra al sistema che desideriamo più chiuso più aperto più ampio molto semplice da usare lo stereo expander sempre di melda facente parte dei plugin free upgradati e infine appunto il PSP285 che abbiamo già visto e che è il plugin nuovo appena uscito di PSP Audio il sistema modulare del Lexicon 42 arriviamo infine alla catena dei saturatori tutto il 2022 è stato caratterizzato dall'uscita di plugin di saturazione quelli che ho utilizzato più spesso sono lo Slam XL il Fab Filter il classico Fab Filter Saturn 1 e Saturn 2 il Fire Master di plugin United che abbiamo già visto il Super Charger di Native Instruments anche questo molto interessante il Newfangled Saturate bellissimo uno dei miei clipper preferiti insieme ovviamente ad Ash il 3Comp quindi il sistema di saturazione multibanda di Studio One il PSP Saturator a cui ho collaborato e di cui trovate appunto i preset di JGR all'interno l'Oxford Inflator classico il G-Sat Plus Free DTB Audio DTB Pro Audio l'Erm Saturator sempre Free espanso di ML da Production e ovviamente il P42 Climax a cui dedicherò un video perché appunto è uno dei migliori saturatori analogici passivi arriviamo così alla sezione di metering andiamo ad analizzare ora tutti i tool riguardanti i meters in questo caso Loudness Penalty è quello che ho utilizzato più spesso in assoluto e che avete già visto in altri video di Meter Plug il Level Meter di Studio One come anche il Phase Meter di Studio One questi sono utili perché è possibile aprirli all'interno della Channel Strip senza dover aprire il plugin esterno il PSP Tripol Meter molto bello per chi adora il sistema di metering calibrabile e ovviamente che faccia riferimento a un sistema più analogico abbiamo a disposizione i diversi tipi di meter analogici lo scope di Studio One quindi lo oscilloscopio come anche lo oscilloscopio che uso spessissimo di Melda il Moscilloscope lo spectrum meter di Studio One il correlometer ossia il correlatore di fase suddiviso per frequenze veramente uno strumento indispensabile per chi fa vinili ed è gratis l'MZ sempre di Melda come anche lo Span un bellissimo FFT gratuito come sempre sono i plugin gratuiti aggiornati alla versione Pro diciamo lo U-Lin loudness meter sempre presente nei miei mastering molto bello molto rapido e molto leggero come anche l'analyzer di Melda sempre di Melda il loudness analyzer e lo stereoscope come vediamo sono tutti i plugin molto simili che troviamo per chi ha acquistato versioni più professionali all'interno ad esempio di Insight Insight è a mio avviso il miglior analizzatore all in one che esista attualmente sul mercato è veramente molto preciso mi permette di separare le sezioni modificarle allargarle stringerle per avere appunto veramente una super customizzazione e poterlo inserire su un monitor esterno in tempo reale e ovviamente il Master Check che avete visto tantissime volte nei miei video e che fa riferimento al sistema di Check-in Master di Nugent Audio anche questo è uno strumento veramente veramente molto bello trovate un video tutorial dedicato proprio a Master Check nella sezione dei tools troviamo il Kickstart di Nick Romero un sistema di gating con algoritmi disegnabili veramente splendido sulle tracce audio il Meta Plugin 64 per poter creare connessioni e routing tra i plug-in il Mix Tool di Studio One che avete visto in azione insieme alla Pipeline XT di Studio One che serve per collegare l'outboard esterno ed avere un controllo perfetto della latenza quindi il calcolo al sample della latenza in ingresso e in uscita lo Splitter appunto il Super Tool di Studio One per creare routing complessi all'interno del singolo canale il Tone Generator di Studio One e l'XDeter di PSP che appunto modifica il dithering in uscita ovviamente escludendo quello della Do il Latency Delay per le tracce questo ovviamente non è un effetto di delay ma appunto è un tool come anche la Dictive Trigger da utilizzare sulle tracce audio di batteria layer di Sound Particles che abbiamo già visto che mi permette appunto di creare un low pass filter molto particolare l'MCC Generator per chi li utilizza per comandare i CC il Channel Matrix sempre di Melda Production e ovviamente il Noise Generator di Melda sempre in relazione all'oscillatore di Melda quindi questo mi permette poi di creare segnali di oscillazione in uscita utili per il controllo dei routing delle fasi nelle fasi di appunto assemblamento dell'outboard troviamo poi Multi Utility sempre di Melda Production che ci permette di avere alcune caratteristiche a portata di mano in maniera molto semplice come appunto la gestione del pen l'inversione di fase eccetera eccetera e l'Econ Digital DeClick che ho utilizzato tantissimo quando mi arrivano i mix dove la voce per esempio è piena di rumori come ad esempio il della saliva appunto della voce che è fastidiosa da dover rimuovere a mano uno per uno questo mi permette di fare un eccellente lavoro di restauro veloce sulle tracce di voce per quanto riguarda le chitarre abbiamo Ampire veramente bello nella versione 6 di Studio One bellissima emulazione di amplificatori per arrivare poi ad Aero di cui ho già parlato e che a mio parere è il migliore emulatore di amplificazione per chitarra mai realizzato l'unico inconveniente che vi devasta il processore se lo usate in modalità low latency quindi in tempo reale mentre suonate ma è veramente incredibile e ho chiaramente i miei way to go che sono i guitar rig 5 e 6 che uso spessissimo proprio per lavorare rapidamente quando devo registrare chitarre al volo all'interno della do e come anche appunto AmpliTube 4 di cui poi ho acquistato anche tutti i pacchetti aggiuntivi relativi alle amplificazioni Fender quindi puliti tutta la sezione dei puliti di AmpliTube molto bella infine sul master ovviamente Fire Unlimited ormai fisso e nella sezione di Listening quindi quella che uso in fase di Listening c'è appunto Sienna Guru con la correzione delle cuffie con gli algoritmi di correzione delle cuffie e l'emulazione degli ambienti di lavoro veramente eccellente ho dedicato tantissimi video a Sienna vi invito a guardarli e il Sound ID Reference di Sonarworks per la correzione delle casse che poi uso qui all'interno dello studio per fare i test questi sono tutti i plugin che ho scelto che ho utilizzato quest'anno in base al carico di processore quindi in base all'utilizzo poi che faccio all'interno di una song più o meno corposa e che vi invito a scaricare le versioni demo e provarle di tantissimi di questi trovate i video già fatti sul mio canale quindi potete scorrerli e guardare come utilizzarli all'interno del mix e del mastering per il momento è tutto ciao a presto spero che questa lezione vi sia stata utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online sul sito www.proaudiolearning.com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nelle fasi di mastering per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre ai nuovi video esclusivi ogni mese continuate a seguirmi su Facebook YouTube e Music Off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale Patreon che trovate in descrizione se il video vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella questo mi aiuta a far crescere il canale per il momento è tutto ciao a presto